Buon salve e bentornati su Noma Mammazzo. Parliamo di Dilan Dog e del ciclo della meteora che si concluderà ufficialmente a fine anno, fine 2019, ma che per chi come me è stato a Lucca Comics and Games ha già potuto gustarsi in anteprima il numero 399, che in edicola uscirà a fine novembre, e il numero 400, che in edicola uscirà a fine dicembre. Prima però di parlarvi del numero 399 e in misura minore del numero 400, vorrei fare un piccolo escursus dei numeri che abbiamo visto durante questo ciclo della meteora. Il ciclo della meteora è partito anch'esso in anteprima al Lucca Comics and Games 2018, con il numero 387, che regni il caos, con una copertina lenticolare, per l'occasione Lucca Comics, oppure la recuperate sul sito Bonelli, credo, vi poi vi metto il link in descrizione, con Dilan Dog che viene raggiunto da una meteora e viene, ok, viene, come si dice, disintegrato, ok, spero si veda anche nel video. Inutile dire, questo numero lo ha scritto Roberto Recchioni, così come ha scritto Roberto Recchioni anche il 399 e il 400, e poi andiamo a vedere anche i numeri nel mezzo. Roberto Recchioni, per chi non lo sapesse, ma dubito che non lo sappiate, è l'attuale curatore della collana di Dilan Dog, quindi è colui che, diciamo, ha preso il testimone da Tiziano Sclavi per gestire il personaggio. Il numero 300, che ho già perso, eccolo qua, il numero 387 che ho rivisto con piacere, mentre, che ho sfogliato con piacere adesso, mentre ve ne parlavo, è un numero spettacolare, mi è piaciuto un sacco, ha lanciato un bel ciclo della meteora, ciclo che è durato praticamente un anno, con un countdown, ci sono stati i suoi alti e bassi, allora qua vi mostro così in sequenza l'esercizio numero 6, che è stato il 388, la sopravvissuta che è stata il 399, finora mi sono piaciuti tutti, è la caduta degli dei che è stato il 390, onestamente questo non mi ricordo di cosa parlasse, vediamo un attimo, ah sì, molto carino, il sangue della terra, ok, 391, sangue della terra, il primordio, numero che di per sé non mi è piaciuto molto, ma che avrebbe potuto portare a qualcosa nel ciclo della meteora, non so tuttora se questa cosa è successa, casca al mondo, dall'Ublo mi annoia un po', mi è piaciuto molto, Eterne Stagioni, che ho già recensito in occasione dell'unboxing, dato che conteneva anche delle figurine, del tempo e delle altre illusioni, piaciuto molto, il suo nome era guerra, piaciuto molto, sta cadendo tutto, Morbo M, piaciuto molto, scusate, mi stanno cadendo, allora, e infine, chi muore si rivede, piaciuto molto, 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 per poi arrivare al 399, 399 numero conclusivo di questa saga della meteora, che si legge tranquillamente, senza problemi, ma che si può apprezzare di più se si posseggono altri numeri che vengono citati all'interno di questo fumetto, il 371, che è il crossover con Dampir, per esempio, nonché altri numeri che vi metto qua in descrizione, così li potete recuperare in questo mese che vi separa dall'acquisto in edicola di questo numero. Parliamo del numero in sé. Questa è la copertina Variant che si trova a Lucca Comics & Games. La copertina reale, chiamiamola così, la copertina standard che troverete in edicola sarà diversa, è disegnata sempre da Cavenago, vi consiglio di acquistarla perché è fantastica. Il numero è scritto e sceneggiato da Roberto Recchioni ed è disegnato non da un disegnatore, non da due, non da tre, non da quattro, ma da ben sei disegnatori. Quindi tra di essi vi cito Angelo Stano e Corrado Roy. Questo dà anche proprio un senso allo svolgimento della narrazione. Perché dico questo? Perché in questo numero la fabula degli eventi e l'intreccio non scorrono di pari passo, vengono proprio mostrati dei momenti nel tempo in questo numero che non seguono un ordine cronologico, ok? Ci mostrano cose successo in determinati momenti, sia a poche ore dalla meteora, pochi giorni prima della meteora, un mese prima della meteora e così via, in ordine sparso. E i disegnatori diversi che si avvicinano ci aiutano anche a capire lo scorrimento degli eventi in base appunto a chi disegna. La storia a me è piaciuta molto, purtroppo mi ero fatto un autospoiler andando a leggere un'intervista di Roberto Recchioni, mannaggia quanto mai ho letto quell'intervista, ma ciò nonostante ho apprezzato comunque il numero, devo dire che l'ho apprezzato anche quasi più del numero 400, numero celebrativo su cui ci dedichiamo più tardi. Allora, da adesso in poi io faccio spoiler. Ci tengo a dire che il numero è uscito a Lucca ufficialmente, non l'ho rubato, di conseguenza dopo è scontato che sia uscito a Lucca, io ne posso parlare. Ma se voi non volete sentire in anteprima quello che ho da dire, schippate il video e venite a rivedervelo quando avrete letto il numero. Se invece non vi importa di ricevere spoiler o anche voi lo avete già letto, allora possiamo proseguire tranquillamente. Io inizio a parlarne tra 3, 2, 1. Allora, come dicevo, il numero a me è piaciuto molto perché questo fatto di avere un montaggio in cui ci mostrano gli avvenimenti non in ordine cronologico ma in ordine sparso, se così vogliamo dire, ha un certo taglio cinematografico che mi è piaciuto molto. Mi è piaciuta molto la scelta di Recchioni in questa cosa. Da un certo punto di vista, non so se vi ricordate, se avete visto il mio altro video in cui dicevo i fumetti di Dylan Dogg non sono baffi e l'ammazza vampiri. Per quanto io apprezzi baffi e l'ammazza vampiri, Dylan Dogg ha un certo senso di profondità maggiore, un certo senso di metafora maggiore. Ciò nonostante in questo numero ci sono delle pure scene d'azione alla baffi e l'ammazza vampiri, all'apocalypse dove appunto Graucio, Block, Dylan Dogg stesso, Rania e Carpenter ammazzano i vampiri. I vampiri che hanno avuto già occasione di incontrare in Dampir, quindi non i vampiri diciamo di Dylan Dogg che sono per lo più metaforici ma i vampiri veri e propri. Io penso, quindi questa cosa non mi è piaciuta moltissimo, però ci sta ogni tanto che ci sia anche della mera violenza diciamo, della mera battaglia perché è giusto che ci sia. In fondo c'è l'apocalisse ragazzi. Credo che questo numero sia servito anche a mostrare che John Ghost che è stato il protagonista, l'eminenza grigia dietro agli eventi di questa meteora, ci fa capire anche lui come tutti gli eroi della Bonelli siano molto più collegati. Lui per primo inizia a parlare dal numero 399 di multiverso perché chiaramente tutti gli eroi Bonelli non possono condividere lo stesso universo. Lo stesso Morgan Lost per esempio vive in una realtà parallela. Ha avuto un incontro con Dylan Dogg in un mini crossover di quattro numeri di recente che però non è il Dylan Dogg ufficiale, canonico, ma è il Dylan Dogg di una linea temporale alternativa proprio perché Morgan Lost vive in una linea temporale alternativa. Ciò nonostante sembra quasi che John Ghost sia a conoscenza delle varie linee dei multiverso Bonelli e qua ne parla tranquillamente a Dylan Dogg e mentre ne parla, mentre parla di vari eroi che come lui possono fare la differenza, vediamo delle sequenze disegnate in cui ci mostrano Martin Mister, ci mostrano Dampir appunto, ci mostrano Giulia, ci mostrano Zagor, ci mostrano Morgan Lost e questo penso che serva anche a introdurre, a quanto penso io, un universo Bonelli più coeso. Quindi se il ciclo della meteora fosse un preludio a un universo coeso della Bonelli ne sarei molto contento anche se questa cosa mi dà da pensare perché se così fosse perché non ne hanno parlato anche negli altri numeri che possono condividere la realtà di Dylan Dogg già in questo momento. Per esempio Martin Mister condivide lo stesso mondo di Dylan Dogg, eppure non ci sono stati riferimenti alla cometa in Martin Mister che io sappia. Però io credo proprio che questo numero abbia strizzato l'occhio a quello che ci sarà dal 401 in poi, cioè a un universo Bonelli coeso. In luce anche del fatto che sempre Luca Comics and Games hanno lanciato il Bonelli Cinematic Universe. Lo hanno lanciato con il film di Dampir che stanno girando, stanno finendo di girare in Romania in questo momento. Questo film di Dampir è stato presentato come primo film dell'universo cinematico Bonelli, di cui presumo faccia parte anche la serie tv su Dylan Dogg che gireranno quella famosa di dieci episodi di cui ho parlato nello scorso video che vi metto in descrizione, vi metto qui negli angolini, fate voi. Quindi credo che tutta questa operazione a livello metanarrativo serva proprio a far collimare tutto verso un universo sia televisivo sia fumettistico in cui tutti gli eroi potrebbero di tanto in tanto collaborare nel limite del possibile. Chiaramente non mi aspetto che Tex Wheeler possa collaborare con tutti gli altri, però un Nathan Never che può viaggiare nel tempo o piuttosto che con la magia vengano riuniti in qualche modo, sarebbe molto carino vedere questi eroi in stile Avengers, passatemi il termine, che collaborano tutti assieme a una minaccia soprannaturale, anche se non vorrei mai che avessero lo stile americano degli Avengers, ma che mantengano il proprio stile bonelliano italiano. Il numero di per sé, oltre a essere un omaggio agli altri eroi bonelli e una conclusione della meteora che sta arrivando, è un omaggio anche all'amore, all'amore universale, all'amore che può trascendere le razze, può trascendere anche il sesso. Qua chiaramente vediamo Dylan Dogg che sposa l'ennesima, che vuole sposare l'ennesima squinzia di turno, che si chiama Alice o Alice, ma che all'ultimo si tira indietro perché Cacchio l'ha appena conosciuta durante l'Apocalisse, Dylan si innamora sempre della damigella in pericolo, che però in questo caso fa un passo indietro perché non se la sente di sposare un ragazzo appena conosciuto, nonostante l'Apocalisse sia imminente, e lascia quindi Dylan all'altare che per evitare l'Apocalisse, perché John Ghost gli ha detto che il matrimonio di Dylan può salvare il mondo, sposa la sua vera, diciamo, anima gemella, se così si può dire, diciamo, sposa una delle persone che sono state al suo fianco fin dal principio nella buona e nella cattiva sorte, in salute e in malattia. Non vi dico chi è, scopritelo o indovinatelo da soli, tanto è una cosa che c'è nelle ultime pagine del numero. Il matrimonio, sacrificio, di Dylan Dogg riuscirà a salvare il suo mondo dall'impatto di questa nefasta meteora?